T.J. Prova a vedere se è aperta. T.J. T.J. Stai bene, che fai? Secondo te che faccio? Pulisco la cucina. E quindi... E la colpa è vostra, pari merito. Beh, bene. Sì. Perciò, via i cappotti, portate qui il sedere e date una mano. Va bene. Torniamo più tardi. No, 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 voi non ve ne andate. Ho iniziato per colpa vostra. Venite a dare una mano. D'accordo. Sì? Va bene? Venite. Bene. Ho un sacco di roba per pulire, forza. Due persone sono venute poco tempo fa con l'idea che io riaprissi questa sala. E io sono stato molto chiuso. Ma quello che voglio fare adesso, col vostro aiuto, è riaprire questa sala e aiutare i ragazzi di questo paese, che hanno un bisogno disperato di aiuto e di un pasto caldo. Allora, Tony, siamo al sicuro? Sì, ho sostituito questi tre fusibili. Bene. Alla lunga, però, andrà risistemato. Altrimenti dei problemi ce li avrai. Ma per adesso sei a punto. Darò il benvenuto ai nuovi amici, che da una zona di guerra sono arrivati fra noi. E quello che voglio fare è usare questo spazio per incontrarci, sedere e mangiare insieme. Sì, certo, anche quella. Se porti via quella robaccia, sarebbe perfetto tutto quello che all'aria di essere poco sicuro o che è da buttare, esatto, deve andare. Questa è solidarietà, non beneficenza. Qui siamo noi, che facciamo qualcosa insieme. Non è solo mettere a tavola un pasto ogni tanto. Voglio che sia stabile.